Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei Milanissi del web Guardate che scena topica che vi ho fatto fare Oggi video sulla Champions League che si è conclusa ieri sera per le italiane E andiamo ad analizzare tutte le partite delle squadre italiane in questo turno di Champions League Partendo da sabato e arrivando... Eh, da sabato, scusate Da martedì scorso Arrivando a mercoledì sera di ieri Allora, partiamo da martedì Allora, partita delle 18.55 tra Inter e Shakhtar Dhaniesk La squadra nera azzurra Ahimè, scusate Cioè, comunque la maglia, quando vedo quella maglia dietro Mi sale l'antisportività che è dentro di me Ahimè, la squadra nera azzurra Ha pareggiato il secondo pareggio nel girone di Champions League Ed è, se non sbaglio, terza adesso nel girone Perché il Real Madrid, dopo aver perso contro lo Shakhtar Va a pareggiare in rimonta con difficoltà Ah, Montchengladbach Mi pare sia a Dortmund Non vorrei dire una cavolata Contro il Montchengladbach Dunque, tiene aperte le speranze dei nero azzurri Che devono andare Hanno adesso il doppio incontro contro il Real Madrid Mi pare sia prima al Bernabeu O comunque dove gioca il Real Non so se al Bernabeu o al Di Stefano E poi a San Siro E poi ci sarà appunto la sfida Con, credo, il Borussia Montchengladbach E appunto lo Shakhtar Donetsk Non vorrei dire una cavolata Ma dovrebbe essere così Dunque, l'Inter complica non poco la situazione Io ho visto un Inter Priva di idee Priva di ritmo Priva di Quell'intensità Quella grinta Che c'è tipico delle squadre di Conte Non l'ho vista Ho visto un Inter abbastanza Appunto, priva di idee Monotona Prevedibile E Lukaku dipendente C'è molti passaggi orizzontali Poi una verticalizzazione su Lukaku E si sperava Nella giocata, no? Del fenomeno Belga Ovvero, veramente Un grande, grande, grande Giocatore Poi, la sera C'è stata una partita Secondo me Tra le più belle Tra queste quattro Cioè Atalanta-Ajax Con il risultato di 2-2 Anche qua una partita Con tanti colpi di scena L'Atalanta Che va sotto Dopo un primo tempo Un po' Non da Atalanta Nel senso che Non ha avuto Quel predomino del gioco Ha avuto le sue occasioni Però L'Ajax Faceva la partita Era più coraggioso Più intraprendente L'Atalanta Era un po' sotto tono Nel secondo tempo Ha un po' preso Un po' più di fiducia Di coraggio E è andata all'attacco E doppietta Del Panteron Zapata È la perla nera Di Cali Colombiano Che fa due gol Grande partita Sia sua Che di Un grande Grande Papu Gomez Che a me piace tantissimo Anche Romero Tanta roba E niente Una bella partita Di tutti Anche nell'Ajax Una buona prestazione A parte di Gravenberg Tanta roba Anche in attacco Lassina-Traore Mi pare sia Comunque una buona partita Da parte delle due squadre Che hanno due filosofie No Giovani Offensive Sempre propositive Così Due realtà Beh L'Ajax è quella storica L'Atalanta è una comparsa Perché non credo che L'Atalanta durerà Nei secoli Negli anni Negli anni sì Ma nei secoli Non so Quanto sarà ricordata L'Atalanta Rispetto all'Ajax Ecco Andiamo a mercoledì Mercoledì Due partite alle 21 Allora Premetto che ho visto solo Juve-Barcellona Però mi sono rivisto Gli highlights della Lazio Ogni tanto facevo zapping Andavo a vedere Qualche minuto di Lazio Ho visto appunto Ho sentito Mi sono informato comunque Sulla partita Dei Bianco Celesti Lazio che va a Bruges Come sapete tutti Con una situazione Abbastanza difficile A livello morale E anche di organico Visto che gli mancavano Metà squadre Immobile Luis Alberto Mi pare Lazari C'è veramente Tanti tanti giocatori Di titolari Mi pare che abbia visto io Vabbè Reina Non è proprio titolare Però abbiamo Ho visto Una Cerbi Se non sbaglio Mancava Luis Felipe Giocavano Con Patrick Eo Mi pare Dietro c'era Parolo titolare C'era Savic titolare Correa titolare Caicedo Marusic Mi pare E poi tutti Primavera Che ovviamente Ha portato più Murici E niente Lazio che comunque Un punto secondo me Buono Buono Perché Comunque va in testa Quattro punti Adesso al doppio confronto Con lo Zenit Se vince tutte e due Credo che matematicamente O almeno faccia quattro punti Credo che matematicamente 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 Sia qualificata Sia qualificata Perché se vai a vincere Due scontri diretti Almeno ne vinci uno All'Olimpico Vai a pareggiare lì O addirittura vinci Vai già a 8 O 10 punti Che poi Ai due partite Potresti addirittura Fare 16 punti Ma non credo Che vada a vincere A Dortmund In casa Col Bruges Può vincere Dunque Ipoteticamente La Lazio Se non perde contro lo Zenit O ne pareggia una Magari fuori casa E va a vincere in casa Col Bruges Sarebbe a 11 punti Alla fine del girone Con 11 punti Tranquillamente passi Anche perché hai battuto Due volte Il Bruges Non hai perso E anche con lo Zenit Ecco La Lazio deve giocare Le due partite fondamentali Sono con lo Zenit Sia all'andata Anche al ritorno Poi col Borussia Vede come andare Comunque una buona Un punto che secondo me Ci sta E' ovvio che Se vinceva Con tutte queste case Tutte queste cose Era un bel colpo Era un bel colpo Andava a 6 punti Per fortuna Il Dortmund Ha vinto Dunque Lo Zenit E' abbastanza fuori Dei giochi Adesso Visto che Mi pare abbia perso Anche contro Il Bruges Alla prima Però Bisogna vincere Appunto con lo Zenit E Fare partita anche All'Olimpico Col Bruges Passiamo alla Juventus Che perde Per la gioia Di tutti i tifosi italiani Che odiano La Juventus E che amano lo sport Dunque Chi ama lo sport Odia la Juventus Mi dispiace Tifosi juventini Ma ti fate E' una squadra Che ha rovinato Il calcio italiano Bene Cosa sto dicendo Sì Juventus Che ha rianimato Il Barcellona Veramente Il Barcellona Mi è piaciuto Come ha giocato Poi tu mi c'erano Scappati di casa Un derby Un derby Fasullo Correre al Madrid E intanto Sono venuti a Torino A giocare a calcio Un po' più Cattivi Sottoporta Perché veramente Entravano Nell'area piccola Col pallone A un certo punto Scarica Con qualche tiro In porta Da Cesni Che alla fine Non è che ha fatto Ste grandi parate Nel senso Mi ricordo Un tiro di Messi Poco fuori Una bella Un'uscita In diagonale Come a noi portieri Ci fanno fare Cioè andare in avanti O correre la porta Quella è stata Un graffo Poi il tiro di Dembélé È deviato Ma secondo me Sarebbe comunque entrato Buona partita del Barcellona Grande partita di Messi Che ogni tanto Accelera Lascia sul posto Rabiot Fa dei Cambia campo Gliela mette sui piedi Vabbè Messi Per me è il miglior al mondo Poi anche Ronaldo Campione Immenso Però Io preferisco Messi Grande partita Del giovane Che non mi ricordo Il nome Sinceramente Non è Rodri No Rodri Un altro Vabbè Pedri Pedri Mi pare Pedri Buona partita sua Buona partita Di Jordi Alba Che l'ho visto Propositivo Buona partita Dalla parte Della Juve Di Morata Che ha fatto Tre gol Ma in fuori gioco Non sono abituati Della Juve Ad essere espulsi Ad annullare Mi dispiace Ci dovete fare L'albitudine Così funziona Al di fuori Dell'Europa Niente La Juve perde E non date la colpa Pirlo Date la colpa Paratici Che non sa fare Mercato Lasciamo stare E ha messo lì Un giovane Che magari Fra dieci anni Sarà uno dei migliori Al mondo Ma ora Andrea Pirlo E fino a due anni fa Giocava a calcio Dunque Prima un po' di gavetta Avrei accettato Che facesse Il suo anno I suoi due anni In under 21 E under 23 E poi andasse Alla Juve Purtroppo Scelta dovuta Anche A i soldi E non nascondetevi No Perché allo stilo Juve I soldi Prende un milione e mezzo Di stipendio Pirlo 12 Ne prende conte E la Juve Un top allenatore A meno di 5 o 6 Non lo prendeva Dunque Fatemi Mettetevi con la testa A posto I ventini Non nascondetevi Dentro falsa verità Iscrivetevi al canale Lasciate like Condividete il video Commentate il video Commentate Seguiteci su Instagram Vi saluto Bella ragazzi